Ok. Dove eravamo rimasti? Doveva scegliere tra Manuel e Ludovico e non sceglie nessuno. In questa stagione Manuel torna dalla Spagna con una nuova ragazza spagnola. Quest'anno sarà un anno molto particolare per Martina. Questo sarà un anno pieno di sfide per Nicola. Gloria è una ragazza molto ambiziosa. Manuel è un ragazzo molto forte. Quest'anno si gioca la carta della falsità. All'inizio la competizione con Sara sarà forte, ma le due piano piano capiranno di non starsi poi così antimatiche. Farà amicizie con persone con cui non si sarebbe mai aspettato di legare. Quest'anno Virginia sarà piena di amici. In questa terza stagione Gloria sta con Nicola finalmente. E sono super innamorati. Si innamorerà di un altro ragazzo e voi non potete immaginare chi sia questo ragazzo. Troverà anche il ragazzo giusto, magari il principe azzurro. Sorpresa! Sara verrà bevagna. Magari vuole tornare con Sara, ma non si saprà bene che succederà. Vuole stare solo e si concentra sulla ritmica. Dopo essere uscito con una ragazza, conoscere un'altra ragazza di cui si innamorerà. Ed affrontare ogni difficoltà insieme. Anche ci sono un sacco di imprevisti. La vendetta. Vorrà andare via da bevagna. Avrà un momento un po' triste. E Gloria vuole stare accanto, anche se vuole seguire le sue ambizioni. E questa cosa cambierà tutti i suoi piani. Fare no! Se volete sapere che cosa succede, davvero, non perdete la terza stagione di Sara e Marti. Hashtag la nostra storia. Solo su Disney Channel. Here we go! Ciao! 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 Grazie per la visione!